buongiorno a tutti e bentornati sul mio canale oggi vi racconto un po come ho scelto ariel dall'allevamento e tutti gli errori che ho fatto in questa scelta vi do qualche consiglio su come scegliere al meglio il proprio cucciolo da un allevamento da una cucciolata innanzitutto soprattutto se si vuole qualche razza particolare oppure se non si vuole aspettare è normale fare qualche chilometro per raggiungere l'allevamento migliore per scegliere il proprio cane considerate che state scegliendo un compagno di vita per diversi anni 10 15 anni quindi non vi spaventate se dovete fare 100 200 500 chilometri per andare per raggiungere l'allevamento che più vi dà fiducia una volta arrivati all'allevamento parlate col proprietario fatevi fare la visita dei box fatevi vedere i cani se i cani li tiene con sé in casa se un allevamento piccolo un allevamento grande come se i box sono puliti come insomma fatevi un'idea dell'allevamento e se l'impressione che avevate avuto magari per telefono o dal sito effettivamente quella reale perché quella è la prima cosa quando innanzitutto chiedete di vedere se è possibile il padre e la madre dei cuccioli non sempre è possibile perché spesso il padre è un cane che non è dell'allevamento però almeno la mamma si dovrebbe vedere o comunque altri cani della stessa cucciolata magari della mamma e del padre se si hanno gli zii dei cuccioli e successivamente vedere i cuccioli ora quando andare in allevamento secondo me bisogna andare in allenamento almeno un paio di volte la prima volta per vedere la cucciolata vedere farsi un'idea e se l'idea è buona anche diciamo scegliere il cucciolo e dare un acconto però poi tornarci almeno una seconda volta prima di prendere il cucciolo in modo tale che il cucciolo è cresciuto e si inizia a fare a instaurare una relazione col cucciolo quindi diciamo una volta per scegliere il cucciolo una seconda volta per andarlo a vedere a incontrare e una terza volta per prenderlo e portarlo a casa e in questo modo il cucciolo che poi viene preso non subisce un grosso trauma per il distacco dalla dalla mamma dei cuccioli ma in qualche modo già vi conosce se avete già le idee chiare se prendere un maschio o una femmina fatevi spiegare tra i vari maschi e le varie femmine le varie differenze che l'allevatore ha notato a livello sia fisico che comportamentale chiaro che la prima volta che andate a vedere i cuccioli probabilmente sono molto piccoli le differenze non sono molto evidenti però già l'allevatore vi può dire se è stato il primo cucciolo a essere nato a essere stato partorito oppure se è il più grande se quello che mangia di più quello che mangia di meno e così via chiaro che sarebbe utile se è possibile vedere dei cuccioli che interagiscono tra di loro in modo tale da vedere un pochino qual è il cucciolo un po più intraprendente quello più vivace quello più tranquillo quello che vi si avvicina più curioso ad annusarvi quello che invece sta in disparte e vi fate un'idea anche in base alle vostre esigenze di cosa avete bisogno spiegate all'allevatore cosa volete fare con il cane e l'allevatore sicuramente vi sa dare le indicazioni più precise se si ha bisogno di un cane da lavoro l'allevatore cercherà di darvi sia una linea di sangue sia un esemplare particolare che magari secondo lui è più adatto alle vostre esigenze vedete come giocano i cuccioli per capire anche il cucciolo un po più dominante cucciolo un po più remissivo e fate le vostre scelte in base alle vostre esigenze secondo me è la cosa migliore in genere per la maggior parte dei casi e prendere una via di mezzo quindi evitate gli eccessi sia in termini di aggressività di vivacità ma anche di timidezza e cercate di prendere una via di mezzo quindi un cane giocoso che è mediamente curioso che si avvicina senza paura a voi e che interagisce con gli altri fratelli che fisicamente sta bene quindi cucciolo paffutello non con la pancia eccessivamente gonfia perché potrebbe significare che hai vermi ma comunque deve essere sverminato ugualmente però fatevi dire dall'allevatore la sua la sua idea insomma cosa più o meno come potrebbe crescere il cucciolo vi racconto anche come ho scelto io ariel dall'allevamento e ho fatto tutti gli errori che potevo innanzitutto sono andato la prima volta che ariel aveva due settimane e aveva ancora gli occhi chiusi siccome avevo detto l'allevatore che voleva una femmina mi ha portato mi ha fatto vedere due femmine della cucciolata mi ha preso questi due cuccioli dalla cucciolata e me l'ha portati in casa non mi ha fatto vedere nella mamma nel padre né come questi cuccioli stavano l'ambiente in cui vivevano ma me l'ha messi in un cesto e me l'ha fatti vedere ovviamente cuccioli tutte e due belli cuccioli con gli occhi chiusi quindi non interagivano tra di loro si vedevano soltanto delle caratteristiche fisiche diverse ariel mi aveva colpito perché aveva e ha tuttora una macchia a forma dv in fronte invece l'altro beagle aveva una macchia verticale semplice e io ho scelto ariel l'allevatore ha messo il fiocchetto e diciamo l'abbiamo prenotata ci siamo tornati dopo credo un paio di settimane tre settimane in cui il cucciolo aveva circa un mese e quindi aveva gli occhi aperti camminava paffutello ma anche lì non abbiamo visto l'altra il resto della cucciolata ma l'allevatore ci prese la cucciola e ce la portò in casa e abbiamo visto soltanto ariel ora non ho potuto fare confronti con gli altri cani non vabbè già l'avevo prenotata ma comunque secondo me il cane deve essere una scelta non può essere che un'altra persona ci scegli il cane per esempio gli allevatori che dicono va bene vuoi la femmina ti porto il cucciolo domani a metà strada in un certo posto secondo io non lo farò mai mai più nel senso l'ho fatto ho fatto degli errori ma non lo farò mai più perché secondo me il cane deve essere una scelta una scelta ponderata voglio confrontare i cuccioli voglio vedere dove i cuccioli sono cresciuti come si comporta anche la madre perché poi mi sembra durante il secondo incontro a un certo punto io ho chiesto si può vedere la madre e l'allevatore portò la madre e lì non mi fece una buona impressione lì ho sbagliato perché potevo rinunciare non mi fece una buona impressione perché la mamma era molto spaventata si vedeva che non era un cane abituato in casa era un cane probabilmente tenuto come fattere o comunque da caccia quindi abituato forse al box comunque non c'era mai entrata in casa ed era molto spaventata anche da dalle persone strane che c'erano non è un cane socializzato con le persone esterne mi si doveva accendere un campanello d'allarme non che ariel sia non socializzata con le persone o abbia particolari paure però non erano buone premesse per prendere un cucciolo e infatti ariel ci ha dato tanti problemi poi la prima notte che è arrivata a casa perché non voleva stare sola o comunque sia non era abituata a un ambiente diverso probabilmente dal box cioè c'era i suoi giochi c'era la ciotola c'aveva la copertina c'era tante cose intorno alla sua cuccietta ma non era un cane abituato ad un ambiente familiare e quindi ci ha dato vari grattacapi per abituarla ecco io ho fatto degli errori spero di cercare di trasmettere qualcosa a chi vede i miei video per evitare di farli se volete altre informazioni avete altre curiosità chiedete pure spero di darvi tutto l'aiuto che mi è possibile ciao a tutti alla prossima grazie a tutti